Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. È quello che lancia il settimo rapporto sulla sanità realizzato dal Censis e dalla compagnia assicurativa RBM. Nel 2016 il servizio sanitario pubblico ha espulso oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su 4, il 22,3% non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca propria per cure necessarie. E sono circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici, in particolare malati cronici, persone a basso reddito, donne, e non autosufficienti. La sanità pubblica è a rischio crack, mancando dai 20 a 30 miliardi di euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema sanitario del nostro paese. Ma il modo per superare le criticità c'è, come sottolinea il consigliere delegato di RBM Assicurazione e Salute, Marco Vecchietti. Il welfare state è in realtà al centro delle emergenze non solo del nostro paese, ma in realtà di tutta l'area euro. Non è un caso che i principali paesi con i quali ci confrontiamo, dalla Francia alla Germania e al Regno Unito sono già intervenuti in questo senso con delle riforme che sono tutte accomunate dall'impostazione di un modello multipilastro, ovvero un modello che affianca al sistema sanitario pubblico che rimane comunque il pilastro fondamentale, un secondo pilastro, una seconda gamba aggiuntiva che a seconda dei paesi svolge ovviamente una funzione sociale, una funzione economica diversa, ma che ha la caratteristica di essere di fatto un riequilibratore sia in termini di qualità delle cure che di accessibilità alle cure. L'obiettivo è quello di una sanità sinonimo di inclusione ed equità, mentre l'universalismo attuale mostra sempre più profonde diseguaglianze e livelli decrescenti di assistenza, oltre che forti differenze territoriali. In questo quadro solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da una situazione sempre più difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro, dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi, circa il 97,5%, e a più di un terzo dei tedeschi, oltre il 33%. Secondo Vecchietti è fondamentale allora porre al centro dell'agenda politica un robusto tagliando al nostro sistema sanitario, che intervenga strutturalmente sul tema del finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne le quote di universalismo perdute e ripristinarne la capacità redistributiva. Servono nuove regole per preservare i fondamentali del nostro sistema sanitario, garantendo una risposta sicura per la nostra salute e quella delle future generazioni, ancora vecchietti. Una soluzione che sia in grado di intervenire sui costi delle famiglie italiane, ma che abbia anche un fondamentale obiettivo, che è quello di restituire universalismo, sostenibilità ed inclusione a quelle fette della popolazione che oggi, non informate, non sono in grado di accedere all'assicurazione sanitaria.